Non accenna a diminuire, anzi peggiora ulteriormente, il sovraffollamento del carcere di Cremona. Lo rivelano i dati diffusi dal Ministero di Giustizia lo scorso 30 giugno, quindi quattro giorni fa. Da essi si vincono alcune conferme purtroppo amare. Innanzitutto il numero dei detenuti, numero non solo superiore alla capienza, ma anche in costante crescita. Erano 458 lo scorso 31 dicembre, oggi sono 467, il 2% in più nel giro di sei mesi, ma anche il 15,2% in più rispetto alla capienza massima, che sarebbe di soli 393 posti. Resta massiccia anche la concentrazione di detenuti stranieri dentro le mure di Cade il Ferro. Sono 313, più del 67% rispetto al totale. Il loro numero è oltretutto cresciuto ulteriormente del 3,5% per la precisione rispetto a sei mesi fa. Insomma, detto in soldoni, pare che le criticità, anziché risolversi, peggiorino.